Just an Illusion degli Imagination su Radio FM1, 10 minuti dopo le 17, nel frattempo il nostro studio che si è riempito in realtà perché sono arrivati, come avevo preannunciato in precedenza, Simone Tenerelli e Remigio Giannetti, a Radio FM1, i ragazzi della consulta del Conservatorio di Fermo, del Pergolesi, perché ci sono delle cose che purtroppo non vanno, lo avevamo scritto anche nelle pagine di Tron anche per Mane, proprio riguardo la struttura del Pergolesi, nel frattempo stavo vedendo qui fuori del fumo, magari sono i lavori del conservatorio, più probabile la nebbia. E appunto proprio riguardo il conservatorio, i lavori del tetto che dopo l'intervista che avevate fatto qui a Radio FM1 e dopo le lettere che avevate mandato alla provincia che sono stati avviati, invece quelli riguardo le aule sono ancora fermi e ci sono dei problemi, è così? Sì, esatto, appunto come dicevi dopo la ricostruzione del tetto c'era stato promesso che i lavori per quanto riguardavano le aule e i piani partivano fin da subito, però purtroppo questo non è accaduto e ci è giunta voce che i lavori partiranno tra sei mesi, quindi dopo l'inizio del nuovo anno accademico. Noi questo non possiamo permettercelo perché già da settembre si apriranno nuove classi, quindi significa altri docenti e poi le lezioni teoriche ritorneranno in presenza, quindi con l'assenza di aule, che se non erro sono 20 aule più o meno che sono chuse, quindi un numero... 20 aule sono tante. Abbiamo bisogno di spazi proprio per iniziare le lezioni, pure quelle teoriche in presenza e soprattutto per far sì che i ragazzi, gli studenti possano studiare i conservatori. Perché al momento, cioè quest'anno sono stati dei grossi problemi perché le aule non erano disponibili e iniziare un nuovo anno accademico ancora con questi problemi diventa una situazione insostenibile, no? Esatto, esatto. È stato difficile quest'anno studiare in conservatorio appunto perché con la mancanza di aule logicamente quelle che ci stanno hanno la precedenza i docenti per fare le lezioni, quindi è stato molto difficile studiare in conservatorio, trovare un'aula anche per un'ora. Certo, e questo sicuramente poi va anche a discapito dell'attività musicale, concertistica, perché poi sappiamo che la musica è fatta anche di contatto fisico, cioè contatto umano, interazioni, si creano nuovi progetti, nuove idee, tutto questo manca immagino al conservatorio, no? Assolutamente, insomma in questa condizione siamo più spinti a evitare di venire il meno possibile in conservatorio piuttosto che venire è, insomma, aspettare a fare la schiuma nei corridoi in attesa di qualche aula libera, purtroppo lo vediamo anche nella costruzione di progetti musicali all'interno del conservatorio in quanto se abbiamo bisogno di esibirci o comunque di una prova è comunque un problema e questo si ripercuoterà, come diceva anche Simone, per il prossimo anno quando poi ci sarà necessità di riprendere le lezioni in presenza, quindi dal vivo e quindi mettere veramente a dura prova la resistenza del nostro istituto che è già, diciamo, è uscita abbastanza ferita quest'anno, ci siamo trovati veramente male, veramente impossibilizzati a fare qualsiasi cosa e sempre, diciamo, più atterriti da tutto ciò e io penso che questa cosa qui si rifletta nel scegliere questo istituto e anzi scegliere proprio di vivere a fermo perché non si parla semplicemente di un istituto ma si parla anche di un'economia, di un territorio che dovrebbe ringraziare anche il conservatorio che, diciamo, parlavamo con il nostro maestro poco fa che con le sue forze è riuscita da sola a diventare una realtà importante nella regione Marche e non solo e che poi si ritrova per il solito gioco burocratico che, diciamo, di cui la politica e non solo mangia su tutto quello che è il mondo, il magico mondo degli appalti e noi poi siamo sempre le solite vittime mute in cui non valiamo niente perché naturalmente siamo ragazzi e purtroppo viene a dire non abbiamo un silos o una canna fumaria in conservatorio, almeno magari come azienda ci avrebbero dato più interesse forse, ma purtroppo non possiamo produrre niente se non della povera musica, quindi ci sentiamo proprio inascoltati e presi veramente in giro da chi, insomma, dobbiamo avere un po' di riverenzo. Che poi, appunto, dopo i lavori del tetto, dopo le prime proteste, erano arrivate delle risposte da parte delle istituzioni, in particolare della provincia, che di fatto ha in mano proprio questi lavori, però voi poi avete scritto delle lettere, dei nuovi comunicati che sono arrivati appunto anche in redazione, ma nulla si è mosso? Esatto, in questo momento ci troviamo in un grande silenzio, dopo l'entusiasmo iniziale di veder finalmente completato il lavoro sul tetto, adesso però, e dopo che sono state rimosse tutte le impaccature, quindi era rinata un po' di speranza e ci siamo visti bloccare un'altra volta a causa della società appaltatrice che ha comunicato che riprenderà in seguito il lavoro posticipandolo e quindi ritardando ulteriormente un'urgenza incombente sul nostro istituto, ma poi spero che si ricordino che al momento quello che dovrebbe essere anche l'uscita di emergenza è da tempo bloccata, quindi quella all'uscita che interessa all'ala che porta al Duomo è bloccata, quindi anche alla luce di fenomeni naturali, dato che viviamo in un momento in cui non possiamo fare affinamento proprio sul nulla, ci troviamo anche l'uscita di sicurezza bloccata. Insomma anche questo è un problema non indifferente, anche perché la nostra zona purtroppo lo sappiamo, è un dato di fatto, è sismica e quindi insomma anche avere l'uscita di emergenza istruita è una problematica sicuramente importante che riguarda sempre il conservatorio. I lavori però sono in mano alla provincia, quindi la provincia che in realtà dovrebbe in qualche modo intervenire sui lavori e allo stesso tempo anche il comune può fare la sua parte, può trovare altre stanze nel frattempo che questi lavori si faranno, si riattiveranno, non so se serve forse una rete per sostenere queste criticità attuali del conservatorio. Sì, innanzitutto il comune ci era venuto incontro dicendoci che ci avrebbero affidato le attuali sale che sono destinate al BUC, cosa però per cui al momento non è ancora avvenuto nulla e non abbiamo avuto neanche modo di parlare con i rappresentanti politici locali e questa è una cosa che personalmente ci dispiace perché insomma ci fa vedere ancora di più poi sul lato amministrativo quando continuo poco le relazioni e più gli interessi perché io penso che insomma un po' purtroppo la macchina burocratica che muove tutto il lavoro nel settore pubblico si conosce purtroppo molto bene, ma non dobbiamo dimenticare che gli enti locali hanno anche la funzione di salvaguardare quantomeno le necessità dei cittadini e anche più degli istituti, sia per la formazione di studenti ma anche per chi ci lavora. Anche perché il conservatorio è un'istituzione importantissima che di fatto sta crescendo anche dal punto di vista della didattica, della ricerca musicale, ricordo proprio l'ultima collaborazione con Macerata, il centro musicologico con l'unione tra il conservatorio di Fermo, l'università di Macerata e il conservatorio di Pescara, nello stesso tempo però la politica locale sembra un po' sorda alle problematiche. Anche perché noi avevamo chiesto un confronto a tavolino con gli enti locali, però non c'è stato concesso e l'unica promessa che c'è stata fatta è che appunto come diceva Remigio quando finiranno i lavori al mercato coperto che il book si sposterà là, la sede dove è attualmente istituito il book potrà passare al conservatorio, le aule potranno passare al conservatorio. Questo però tra un po' di tempo. Eh, settembre, ottobre dovrebbe, quando finiranno i lavori praticamente. Però comunque fortunatamente che ora si avvicina la stagione estiva quindi al di là del mese di giugno che ci sono gli esami e metà luglio le lauree, il conservatorio è meno popolato dai ragazzi perché tornano tutti a casa la maggior parte. Quindi per ora diciamo che per questi tre mesi non abbiamo problemi per quanto riguarda la logistica delle aule e cose varie. Infatti come dicevamo prima il problema dopo si crea a settembre e noi speriamo che se questi i lavori a settembre non finiscano speriamo di almeno poter avere delle aule che ci sono state promesse dal comune. Anche perché poi se i lavori non dovessero riprendere entro l'estate, il peggior caso possibile riprenderanno a settembre quando riprenderanno le lezioni e a quel punto allora veramente diventa un problema a cui far fronte. Certo, certo, sì anche perché il settembre-ottobre è periodo di esami quindi è la sessione invernale dell'anno accademico 2022-2023 però comunque i docenti tornano a fare le lezioni per preparare gli studenti agli esami e gli studenti hanno bisogno di provare, si crea raro stesso problema che si è creato nel mese di maggio-giugno per la sessione estiva degli esami che abbiamo fatto fatica nel provare insieme agli altri ragazzi per gli esami oppure insieme ai pianisti e quindi questo è il nostro più grande problema. Perché le lezioni proprio in presenza di fatto sono state pochissime e quindi servono spazi proprio per fare delle prove, per incontrarsi insomma poi per tornare anche a frequentare il conservatorio e questo incide anche nell'iscrizione perché avere un conservatorio in questo stato magari gli studenti possono preferire altre sedi in questo momento più attrezzate quindi insomma urge proprio intervenire. anche perché si perde lo spirito universitario che si dovrebbe andare a creare all'interno dell'istituzione. Anche perché una sedi più comode direi anche città più comode perché già diciamo tutto il punto di vista urbanistico che affermo insomma compromette non poco e come non solo questo ci troviamo anche uno spirito studentesco direi addormentato in quanto con la nuova disposizione delle aule naturalmente fatta in modo che ognuno possa nel suo dipartimento frequentare senza problemi però ci troviamo anche a non vedere i nostri compagni di corso, a non poter vivere i locali del conservatorio. Prendo l'esempio dell'uscita che dà verso il Duomo, una zona che sta sempre il più per essere deturpata dall'abbandono. Era diciamo la nostra zona protetta dove uscivamo per prendere una boccata d'aria, comunque fare due chiacchiere. Per interagire. Esatto, interagire. Ci sono delle date sul termine dei lavori? Cioè quanto i lavori in realtà dovrebbero durare? Cioè nel senso se dovessero oggi riprendere i lavori più o meno c'è una stima? Che io sappia no, anche perché è altro giorno che sono rientrato là nel Piano Fiati e è demolito, tutto demolito, quindi c'è da ricostruirlo da capo diciamo. Quindi io sinceramente non so se ci sono, se c'è un periodo stimato. E anche perché visti anche i recenti sviluppi sul tetto in cui siamo stati stand by per molto tempo, per mancanza della materia prima, ormai non si ragiona più per tempo previsto. Non c'è tanto ottimismo, insomma. Assolutamente. Comunque sta di fatto che alla fine servono delle aule in un'altra zona della città, in un'altra struttura. Vanno trovate altre aule proprio per far sì che questi lavori poi, una volta terminati, si possa ritornare. Però nel frattempo questo periodo va vissuto in un'altra zona. Sì, o quantomeno anche scegliere venendo incontro all'ente provincia, al comune e io voglio alla regione o a chiunque voglia prendere a cuore questa questione, anche alla politica, di poter fare una squadra per mandare a gran voce questa urgenza, perché per noi è un'urgenza che sicuramente si può adambonare con nuove aule da trovare, però diciamo che la necessità maggiore è quella di intervenire quando prima possibile sull'edificio. Certo. A proposito di vita di socialità, di vita universitaria all'interno del conservatorio, nel frattempo però ci sono, guardiamo il lato positivo, sono stati avviati dei progetti in particolare, una collaborazione con lo Spazio Betti. Sì, esatto. Per ora abbiamo fatto solamente due date, dove i ragazzi del Dipartimento Jazz si sono esibiti in dei concertini e a seguito c'è stata una jam session e chi voleva poteva suonare musica jazz ed è stato un gran successo. Molto. Fortunatamente abbiamo visto persone contente e musicisti che anzi finalmente potevano fare il loro mestiere senza spostarsi. E questo è bellissimo anche perché puoi trovare degli spazi per incentivare la musica è fondamentale perché ce ne sono veramente pochi, dicevamo, nella nostra provincia e non solo, perché è un territorio dove la musica fa fatica a trovare degli spazi. Sì, quasi siccome viene da fastidio poi. sono sempre meno gli enti o gli organizzatori che danno spazio alle nuove scene, ai nuovi musicisti e questo penso sia sul piano classico che sul piano della musica jazz. È sempre difficile trovare un palco per potersi allenare, per potersi esercitare e questa jam session per fortuna spero sia l'inizio di qualcosa che poi si potrà a lungo tempo perché è necessario insomma per la nostra formazione artistica anche perché si può studiare quanto si pare ma se non si provano poi i goggiati sul campo è difficile avere carriera. Oltre alla teoria serve la pratica, vanno bene i libri, in questo caso anche gli spartiti e tutto quanto, però poi bisogna studiare per imparare a fare il mestiere del musicista. Anche per prendere sicurezza con il pubblico, con il palcoscenico e con tutta la performance. Certo, sicuramente, quindi questa collaborazione con lo spazio Bitti che è importantissima ovviamente per i studenti del Conservatorio di Ferro. Allora un ringraziamento a Simone Tenerelli e a Remigio Giannetti che sono intervenuti qui su Radio FM1, ragazzi della consulta del Conservatorio Bergolesi proprio per spiegare un po' il periodo di criticità che stanno vivendo al Conservatorio di Ferro. Grazie per questa... Grazie mille a voi! Passiamo alla musica, lo facciamo con Boomba Dash, l'unica cosa che vuoi, su Radio FM1. Grazie mille a voi!